Firenze è una città ricca di fascine e di storia. Ma ci sono tante storie che solo i fiorentini conoscono, altri luoghi che non finiscono sulle cartoline, ma che allo stesso modo sanno raccontare i trascorsi attraverso un lessico familiare. La Ménagère era proprio uno di questi luoghi, un negozio di casalinghi nel cuore di Firenze. Abbiamo scelto elementi che richiamassero il gusto di un tempo, un ritorno alle classiche cementine del passato, come se fossero artigianali, ancora realizzate a mano. L'Amménagère ha una nuova veste, ma fedele alla sua anima, alle sue origini. E stagliarsi in mezzo al classicismo di Firenze, senza deturbarlo, anzi, creando una nuova simbiosa.